richard mille culture lusso innovazione e cultura nel mondo dell'orologeria di lusso il nome richard mille evoca immagini di innovazione tecnologia avanzata e design straordinario uno degli elementi più distintivi degli orologi richard mille cultura e il loro aspetto oltre ad essere realizzati con materiali avanzati questa linea di orologi si presenta anche con forme tondeggianti oltre alla classica forma tono ergonomica e confortevole dona un certo stile senza compromettere la tecnologia avanzata all'interno dell'orologio ecco alcuni modelli che incarnano perfettamente la collezione culture di mille rm 47 tourbillon l'rm 47 tourbillon definito non a caso nella comunicazione ufficiale come il tempo dei samurai rende omaggio alla cultura giapponese in particolare al bushido letteralmente la via del guerriero codice di condotta e stile di vita all'epoca dei samurai l'rm 47 tourbillon del resto si distingue proprio per la silhouette del samurai ritratto nella propria armatura sul lato quadrante e sul lato fondello al cui interno è ospitato il movimento è certo invece che la scultura a basso rilievo del samurai è stata realizzata interamente a mano dal maestro incisore pierre alain lozeron e poi dipinta dalla moglie valerie rm 57 trattino 01 la cultura mitologica orientale del drago unita a quella della fenice hanno reso possibile la realizzazione anche di quest'opera d'arte il drago e la fenice sono simbolo di buon auspicio e fortuna realizzati in oro rosa questi animali leggendari vivono all'interno del movimento e sono interamente incisi a mano il movimento rispetta la filosofia di richard mille la platina in titanio trattata in pvd i due bariletti e la riserva di marcia di 48 ore indicata da una linea rossa centrale tra le ore 10 e 11 rm 052 il tourbillon school abbraccia totalmente la cultura rock le corna suggeriscono l'idea di fare casino e sono sinonimo di apprezzamento verso l'artista di turno che si sta esibendo in conclusione la collezione richard mille culture è un esempio straordinario di come l'orologeria di lusso possa unire innovazione arte e scienza